buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è martedì 27 agosto 2024 vede chiedo alla regia di attivare un monitor perché altrimenti non riesco a inquadrare i giornali benissimo ma intanto noi iniziamo la nostra rassegna stampa partendo dal santo del giorno sfogliando appunto l'almanacqua e vediamo che oggi si festeggia santa monica santa monica è associata senz'altro a sant'agostino era la madre di sant'agostino nata a tagaste in africa nel 331 da una famiglia cristiana ebbene fu sposata ad un uomo pagano un uomo buono un galantuomo si chiamava patrizio che si convertì un anno prima della morte grazie all'esempio che aveva praticato per tutta la vita monica ebbe tre figli tra cui agostino che si fece strada con la sua eloquenza era un insegnante di eloquenza prima cartagine poi passò a roma e quindi a milano dove conobbe il vescovo ambrogio ebbene qui ricevette prestigiosi incarichi e fu raggiunto dalla madre che lo stava cercando perché insomma agostino era partito un po di soppiato dalla sua città natale e nella strada del ritorno monica morì morì a ostia mentre appunto tornava con il figlio in africa e da allora fu santificata perché veramente fu un esempio di virtù e di devozione per quanto riguarda appunto l'amore a cristo morì il 27 agosto del 387 vediamo ora le previsioni del tempo stabilità e bel tempo su tutte le marche oggi ad eccezione di qualche locale nota instabile tra il tardo pomeriggio e la sera in modo particolare nelle zone pre appenniniche i venti sulle coste respireranno da nord e nord ovest nell'interno da est e sud est il mare è leggermente mosso il sole è sorto alle 6 e 24 tramonterà alle 19 e 54 e temperature 24 la minima 29 la massima leggermente in calo rispetto ai giorni scorsi ed ora possiamo aprire i giornali passando dalla pagina di fano ecco l'apertura in piazza andrea costa gli scavi fondamentali abbiamo un nuovo intervento un intervento prestigioso sulla prolungamento in favore del prolungamento degli scavi di piazza andrea costa scavi archeologici ebbene oggi interviene il docente di archeologia dell'università degli studi di urbino oscar mei oscar mei è anche direttore scientifico del centro studi vitruviani insieme al presidente dino zachilli ha aderito al comitato invitando l'amministrazione comunale a non perdere questa grande occasione di proseguire a fondo gli scavi su piazza andrea costa mei sostiene che questi scavi sono una sono di una importanza straordinaria per la ricostruzione della topografia dell'antica fan un fortune e rappresentano una occasione da sfruttare al massimo delle sue potenzialità in ballo dice mei non c'è soltanto l'esigenza di ritrovare il cardo massimo una delle vie principali dell'antica città romana ma occorre anche trovare elementi che possono suffragare l'assetto topografico dell'antica città tante volte abbiamo detto che siamo in un punto focale in un punto centrale dell'antica città dove potrebbero esserci anche tanti edifici pubblici e questo potrebbe dare veramente insomma il sondaggio l'approfondimento degli scavi potrebbe dare un impulso notevole alla conoscenza dell'antica città romana fano ha assunto la romanità come un elemento principale della sua promozione turistica promozione che poi si trasforma anche in un risultato economico ma non può trascurare queste opportunità che si presentano durante la sua attività all'interno della vicenda mei assegna un ruolo da protagonista a tutti i soggetti proposti alla conoscenza della storia modo particolare alla soprintendenza ma non è l'unico dice mei ente interessato la soprintendenza da cui tutti poi debbono dipendere tutti hanno un ruolo decisivo a partire dal centro studi vitruviani a partire dal comune e a tutte le altre istituzioni culturali della città anche per trovare la basilica di vitruvio dice il professore approfondire gli scavi in piazza andrea costa potrebbe essere un elemento determinante per trovare la basilica e lo dice veramente un uno che conosce l'archeologia uno che conosce la romanità fanese uno che conosce questa materia che è estremamente importante allora lasciamo decantare ancora questo argomento che ha avuto notevoli contributi in questi ultimi giorni sperando insomma che quanto detto un po influisca sulle decisioni che verranno assunte contributi alle famiglie al via le domande i residenti dei comuni dell'ambito territoriale numero 6 sono 9 i comuni che appartengono a questo ambito possono presentare domanda online per accedere ai contributi a favore della famiglia ovviamente sono quelle famiglie che si trovano in particolari situazioni economiche possono ricevere 500 euro coloro che hanno una ise fino a una ise non superiore a 10 mila euro e che risiedono nei comuni di fano frate rosa mondavio mondolfo monteporzio pergola san costanzo san lorenzo in campo terre roveresche questo è un po il quadro appunto territoriale in cui militano appunto i destinatari di questi contributi e dunque la cifra varia da 500 a 1500 euro secondo le condizioni comunque invito a leggere questo articolo per vedere un po tutti i parametri che vengono applicati per ricevere questi sostegni contributi alle famiglie dunque c'è tempo per fino alle 12 di mercoledì 25 settembre prossimo per presentare domanda ieri c'è stata una conferenza stampa in comune a cui hanno partecipato il sindaco luca serfilippi e l'assessore alessio curzi ebbene sono intervenuti sullo stato veramente indecoroso e così appunto lo definisce il corriere adriatico del canale albani canale albani da due mesi in secca sappiamo benissimo che il suo aspetto veramente non è adatto ad una città a vocazione turistica come fano è pieno di melma ora crescono le erbacce c'erano rifiuti purtroppo la fauna ha dovuto essere spostata dopo essere stata aggredita da lupi o da cani randagi che hanno provocato veramente una strage ebbene questo è un fatto che si sta ripetendo ormai abitualmente in tutte le state così non si può andare avanti questo lo ha detto anche il sindaco luca serfilippi che si propone di incontrare nuovamente enel green power che è l'ente proprietaria del canale albani per cercare una soluzione e concordare una strategia che possa essere in sintonia sia con le esigenze di enel green power sia con le esigenze di una fano turistica di una dignità anche estetica della nostra città il sindaco esige una manutenzione più rigorosa da parte di enel ci sono stati tagli dei canneti in questi ultimi periodi ma poi i lavori hanno proceduto a singhiozzo un po sono stati fatti poi sta con le pause poi sono stati ripresi cumuli di canne abbandonati sul greto del corso d'acqua insomma una situazione veramente ingestibile è insostenibile che non ci sia acqua in questo corso d'acqua allora è meglio trasformarlo in un corridoio ecologico come si è fatto ad Amsterdam e questa è anche una delle soluzioni proposte dal sindaco luca serfilippi oggi è un giorno importante importante per fano perché ricorre l'ottantesimo anniversario della sua liberazione al termine della seconda guerra mondiale era il 27 agosto del 1944 quando i soldati polacchi agli ordini del generale Vladislav Anders risalendo il viale dei passeggi arrivarono a fano arrivarono nel centro storico di fano oltrepassando appunto le mura cittadine da porta maggiore dove esiste appunto proprio una lapide che ricorda questo ingresso erano i soldati liberatori l'esercito nazista che aveva occupato fano si era già messo in fuga qualche ora prima verso pesaro si era testato dietro la linea gotica dove poi sarà scalzato e poi sospinto in alt'italia fino a varcare i confini con la sconfitta appunto della germania alle 18 ci sarà una cerimonia una cerimonia che si è ripetuta in questi ultimi anni di anno in anno ponendo delle corone dall'oro su tutti i siti che ricordano i partigiani ricordano i caduti ricordano i sacrifici dei fanesi fatti dell'ultima guerra ci sono poi diverse iniziative diverse iniziative organizzate dall'ampi ci sarà un concerto alla rocca malatestiana da parte del gruppo bandistico città di fano e domani alla darsena borghese ci sarà la proiezione del docufilm di paolo alberto del bianco fanno 1935 1945 un decennio importante un decennio decisivo un decennio che resterà nel cuore e nella memoria di coloro che l'hanno vissuto purtroppo questi testimoni sono un po diminuiti di molto perché pensate se sono passati 80 anni dal 1944 allora insomma chi era bambino all'epoca insomma non è che avesse molti anni per cui purtroppo questi testimoni mano a mano sono scomparsi comunque il documento di paolo alberto del bianco con foto inedite con filmati e si vedono per la prima volta resta veramente un ricordo decisivo di quei tempi che devono insegnare qualcosa perché la guerra quella purtroppo che sta devastando ancora molti paesi della nostra terra insomma è un male da sconfiggere definitivamente a fossombrone i polacchi entrarono con i partigiani nell'ottantesimo anniversario anche della liberazione di fossombrone perché poi l'esercito l'esercito americano l'esercito degli alleati oltrepassò il metauro e si diresse verso pesaro nell'ottantesimo della liberazione di fossombrone una delegazione composta dal comandante della polizia locale orietta ciccarini dalle vicepresidente ampi valmetauro ludovica zuccarini dal sindaco massimo berloni e poi anche da altri personaggi deporrà un mazzo di fiori ai piedi del cippo che ricorda san pietro in tambis il sacrificio di duiglio policarpi lorenzini partigiano che fu l'ultimo a morire poche ore prima della liberazione un sacrificio importante un sacrificio che dimostra come molti giovani di allora sentirono il bisogno di combattere i soprusi combattere gli eccidi combattere la cattiveria passiamo ad altri argomenti a mondolfo bivacchi notturni allo sgambatoio li denunciano i residenti che continuamente vedono segni di devastazione sono personaggi forse giovani ubriachi che nelle panchine fanno il bello cattivo tempo lasciano bottiglie vuote devastazione degrado danneggiamenti lasciate bottiglie e sporcizia gli utenti sono esasperati e così ogni weekend e tocca a noi puoi fare le polizie magari anche spendere qualche soldo per ripristinare il decoro di questo di questo sgambatoio che è molto frequentato dai proprietari dei cani marotta tramantici tramantici è un po il simbolo della fisarmonica sappiamo come mondolfo marotta poi la fisarmonica è un simbolo della tradizione un simbolo della cultura locale bene per tramantici è stato fatto un lungo mosaico sulle lungomare di marotta che è stato inaugurato domenica dopo il concerto all'alba del festival della fisarmonica si tratta di 14 metri di bellezza in mosaico dedicato appunto al festival della fisarmonica di mondolfo questo lo fa vedere un po a tutti i turisti e anche i residenti quanto la fisarmonica faccia parte appunto della tradizione culturale di questo comune passiamo a senigallia a senigallia c'è un episodio di cronaca c'è un bagnino che ha notato come alcuni ragazzi avessero divelto uno degli ombrelloni della sua concezione e l'avessero buttato nella concessione limitrofa e il bagnino li ha redarguiti lasciate stare insomma non fate una cosa del genere i ragazzi hanno abbozzato sulle prime il giorno dopo invece sono tornati insieme ad altri compagni e hanno preso abbastonate questa persona che gli aveva un po redarguiti ebbene una vendetta una vendetta del branco così viene definita il bagnino picchiato ragazzi non smontate gli ombrelloni e solo per aver detto questo è stato veramente malmenato e ha dovuto far ricorso alle cure del pronto soccorso ricevendo ben 15 giorni di prognosi ovviamente il fatto è stato denunciato a fabriano a fabriano coltella all'ex poi la fuga in officina è un un marrocchino o un tunisino vediamo un attimo si tratta di un tunisino si tratta di un tunisino di 45 anni che aveva già dei precedenti per violenze in famiglia questa volta con l'ennesima lite nei confronti della moglie ha sferrato una coltellata per fortuna colpendola solo di striscio alla moglie ed è stato il figlio minore di 12 anni che ha fatto il numero del 112 e dite correte correte perché il mio papà picchia la mamma ebbene sono arrivati poi le forze dell'ordine e hanno bloccato l'uomo il figlio lo incastra il padre cercava aveva così pensato di procurarsi un alibi era andato in officina aveva finto di dormire in realtà il figlio lo ha messo di fronte alle sue responsabilità vediamo ora la pagina di pesaro dove si parla della fiera di san nicola noi abbiamo dato l'addio ieri noi fanesi abbiamo dato l'addio ieri alla fiera di san bartolomeo tre giorni con un esito altalenante c'è chi ha criticato la fiera dicendo insomma che non è il massimo che si può ottenere da una simile iniziativa da un simile evento e c'è invece che è rimasto contento perché poi insomma anche chi fa delle compere a prezzo accessibile insomma rimane contento e ci sono poi anche alcuni operatori che hanno fatto degli affari dipende anche dal prodotto che viene mostrato ebbene a pesaro ci sono buone premesse al mare 500 bancarelle la cultura del buon cibo per una fiera da capitale e simbolo della fiera di pesaro e la cipolla la cipolla che viene messa al centro dell'interesse cittadino al posto addirittura della biosfera la cipolla no al posto della palla la biosfera ancora lì ma dovrà essere rimossa perché poi il sindaco biancani ha detto sì la vuole la vuole il museo del balì siamo contenti di questo interessamento ma la biosfera rimane a peso anche se dovremmo rimuoverla da piazza del popolo invece la cipolla al posto della palla di pomodoro nel piazzale della libertà a pesaro il simbolo di pesaro diventa insomma anche il simbolo della fiera e della città quest'anno anche la popolare kermes di san nicola rende omaggio a pesaro capitale nazionale della cultura 2024 in viale della repubblica allestito il villaggio del food del cibo con le tipicità del territorio coinvolte le proloco una tensostruttura messa a punto a tema ebbene 500 ambulanti dimostrano l'interesse che suscita anche tra gli operatori questa iniziativa vediamo ancora la cronaca perseguita l'ex diventa un'ossessione la donna lo denuncia e scatta l'arresto e è accaduto a pesaro si tratta di una 32enne che è rimasta impaurita dopo i ripetuti appostamenti sotto casa appunto dell'ex compagno e ha chiamato la polizia si tratta di un 32enne che non è nuovo a trasformarsi nell'ossessione delle donne che prende di mira insomma è un tipo pedante un tipo che perseguita appunto le persone su cui mette gli occhi e questa volta l'accusa è di stalking nei confronti di una minorenne domenica l'arresto e ieri mattina davanti al giudice l'udienza di convalida per il pesarese torniamo a parlare di salute mentale questa nuova questo reparto che deve essere spostato da muraglia e trovare una nuova collocazione salute mentale strutture da trasferire ma l'azienda sanitaria territoriale non deve portarle fuori pesaro perché ci sono diverse candidature per portarla insomma i parenti degli ammalati vogliono che bene o male insomma la nuova sistemazione sia vicino alla città e dentro alla città possibilmente e non costringa le famiglie a fare lunghi percorsi per andare a trovare i loro parenti spostare gli utenti delle strutture dedicate al disagio mentale di muraglia fuori città è una scelta totalmente sbagliata lo dicono le famiglie incidente di ferragosto a piobico muore dieci giorni dopo a torrette non ce l'ha fatta purtroppo vilma urlandi 67 anni residente a ginestreto era stata rianimata sul posto trasferita poi all'ospedale di torrette di ancona ma purtroppo è deceduta l'incidente a causa di uno schianto frontale che ha coinvolto tre auto un testimone la panda ha invaso una la corsia questo un po è la dinamica che si è verificata a urbino mostra raffaello polemiche al veleno gambini sindaco crespini danneggia la città protesta la consigliera di minoranza vi ricordate quella mostra di su raffaello a urbino quella che ha mostrato le riproduzioni di tutti i quadri del pittore urbinate erano delle ripredizioni ad alta definizione non erano quadri originale ma era una bellissima interessante istruttiva carellata di tutte le opere di questo grande pittore la consigliera di minoranza se la prende col sindaco e dice mi sbeffeggia senza rispondere ai punti della interrogazione questo dibattito questa polemica ha animato anche il consiglio comunale bene ora passiamo al resto del carlino l'apertura è dedicata al canale albani lavori lasciati a metà abbiamo visto come il sindaco si è proprio interessato in prima persona per cercare di risolvere questa situazione che non può continuare così e si ripete poi ogni estate ormai da lungo tempo e vediamo qui alcune immagini di come si presenta il canale probabilmente anche peggio di come lo ritraggono le fotografie in questo momento poi c'è anche il risultato di una delle iniziative musicali interessanti che si svolgono nella nostra città e il sai feste il sai feste organizzato da un gruppo di ragazze che mette a confronto coloro che si cimentano nella musica nella poesia e nella recitazione nel teatro sai feste applausi e gloria ecco chi festeggia per la musica ha prevalso la band casertana nodi con il brano stretto ascoli al secondo posto la siciliana cristina di falco in alchemora con il suo brano dal mondo a una stanza terza la fanese gloria vampa in arte gloria con collastic per lo spettacolo il primo classificato è stato il collettivo il nido con la performance psichedelica da quali stelle siamo caduti poi a seguire il monologo solo un'impressione a cura di elisa cioffini terzo posto per borderline dj7 spettacolo sul tema dei disturbi mentali la categoria poesia vista o tionfare di della riminese aisia baglioni in arte aisia ebbene un'iniziativa che ha destato l'interesse di circa 45 ragazzi che sono venuti a fano da tutta italia e siamo già ad una replica di un'iniziativa che ha avuto successo fin dalla sua prima edizione abbiamo delle polemiche per quanto riguarda il luogo in cui andrà a giocare l'alma juventus fano fano calcio alma juventus fano sono le due squadre che rappresentano la nostra città maralma juventus fano sarà costretta a giocare a fermignano perché non è disponibile il campo delle mancini che è stato attribuito invece al fano calcio ebbene questa decisione preoccupa un po il sindaco di fermignano emmanuele feduzzi anche per quanto riguarda l'ordine pubblico questa non è una decisione che ha assunto il comune ma che ha assunto il presidente della fermignanese ovvero della squadra di calcio a cui è stato concesso sua volta il campo di fermignano alma fano a fermignano il caso va in prefettura il sindaco ci preoccupa l'ordine pubblico insomma non è che l'abbiamo cercata noi dice feduzzi questa situazione e vedremo come poterla risolvere erbacce degrado sosta selvangia fano sud e terra di nessuno è la denuncia dell'ex consigliere comunale mirco pagnetti che evidenzia come a ponte sasso e a torrette siano delle siano delle località che siano state dimenticate per tutta l'estate problemi di decoro ma anche di sicurezza rio clinaccio ostruito dalla vegetazione pericolo esondazioni insomma fano sud continuano può essere terra di nessuno ci hanno completamente dimenticati per tutta l'estate ha detto mirco pagnetti che militava nella lista noi civi che fanno ex consigliere comunale a ponte sasso una parte del parcheggio a fianco rio crinaccio dove fermano le auto che usufruiscono delle spiagge è diventata veramente una selva insomma sono diversi problemi perché poi ponte sasso è una delle località turistiche più importanti del nostro territorio e con questa notizia noi terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento come sempre alle 7 di domani grazie per l'ascolto e a risentirci grazie a tutti grazie a tutti